Faccio una cosa Morto, morto a me Vieni, 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 no, no, mi servi, mi servi Corro da te Peace Morta al duo 25, craccato, uno di vita Craccato Tutti craccati, tutti craccati, tutti crati Morto Ehi, 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 ragazzuole, ragazzuoli Benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video Davvero speciale Come avete visto, ho raggiunto nuovamente il rank Unreal Nella nuovissima session di Fortnite in ben 5 giorni Infatti sono al 100% la prima ragazza in tutto il mondo a raggiungere la Unreal E non so bene se sono il primo player in Italia ad averlo raggiunto Ma sicuramente rientro nella top 2 o comunque top 3 Quindi direi tanta roba Oggi, ragazzi, vi delizierò con delle partite e delle play davvero molto molto belle Quindi preparatevi e mi raccomando, subito un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto E vi ricordo, ragazzi, che se volete vedere altri momenti come quelli nella intro Come quelli che vedete tra poco Mi trovate live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17 Trovate il link qui sotto in descrizione Infine, ragazzi, se volete supportare la vostra giocatrice italiana preferita Potete andare nello shop di Fortnite e inserire qui in basso a destra Il mio codice creatore che è Croato Mist Lo inserite e se shoppate qualsiasi cosa dello shop di Fortnite Taggatemi su Instagram che vi reposterò la stories E vi manderò anche un messaggio in privato per ringraziarvi Ora però, ragazzi, io vi auguro una buona visione Ma sì, ma lo snap fisso sai cosa deve farmi Non voglio essere volgara, onestamente No, ma scende qua e verrà qui da noi, sappilo Te lo dico già Ok? Eh, vabbè, fallo fare Comunque War Machine in comp non era poco da vedere Sai che forse vuole le reputa... No Damanti a me? Minchia, allora Eh, non sa di me ma ora lo... Non fare passi, non fare passi, non fare passi, arriva qua Dimmi skin E lui che farma sei tu? Io ero Dimmi la skin Ok, serenade 3, 2, 1 Cracks No Un'era sopra la testa, è sopra la testa uno Nel camionetto della casa 68 crack, quello sopra Crack, toccate lì, crack, crack Vieni, vieni, dobbiamo andare sulla casa Quello sopra la testa, la statua, vabbè Sì, sì, ma questo qua Oiii, young bell Scialatello di pollo Hai roba per scappare tu? No Senti, prendo la macchina, vieni con me, vieni con me Sei? Vai, mi assodio Sì, vieni, vieni Sulla macchina Sei incastrato Crackato Ammazzalo, ammazzalo Ammazzalo, ammazzalo, anche la tua Morto Ok Ho preso la macchina Qua sopra Sciomilo, se mi ami 25 Lo scioppa, lo scioppa, ok? Vai Aspetta che cada No, c'è uno dietro però 20 Ma sei com'è tu? Sì No, l'altro con la torretta però no Devo unirmi a te Adesso mi venisci Ho fatto Vado a riprovare per non andare un pick, ma So cosa fare, so cosa fare Occhio che qua è loro Vieni qua, vieni qua, vieni qua Lui è qua, ok? Io hai il dito qua e lo giriamo, ok? Ok 3, 2, vieni Morto? Morto, sì Sopra non è nostro Faccio la scala Tutto su, è qua Distrutto, distrutto crack Muore, muore, muore Fatto Vabbè, attaccate val Penso che bella play Bravissima, chicca Eh, i medaglioni sono su di noi, occhio Eccolo Qua È entrato dentro Sono una tua Puoi vederli? Sì, ma sono i medaglioni, eh Tutti dei fenomeni, ragazzi Comunque, i giocatori di oggi, eh Ieri in suolo ho beccato tre cheater Vediamo quanti li devo beccare oggi in duo C'è ragione C'è niente dietro Chiudiamo Vabbè, dai Il bro è him I him Vieni qua, vieni qua Vieni tutto a sinistra Chicca, io mi sa che devo farti fare il giro da sola Ho il jet, ho capito Cioè, secondo me non ha senso che andiamo insieme e ciclifiamo Devo fare show what's a feri, capito? Faccio Non è che il quiz Vai, eh Craccato Vai, vai, vai Ci do una mano Vediamo se riesco, eh Ah, il mio muore Il mio muore, no, vai via 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 Il muore alla corte, perché lo giuro, muore Craccato praticamente crack la tipacola di Hello Kitty Io ho sceso la gulla Così impara Ma c'hai like tu? Io sono, io sono She was a feri Ok, She was a feri Io ti sto seguendo versione build, però Sono con te Tutti morti, coi Stai, te faccio una cosa Morta, morta, va Ok, c'è uno questo, io No, no, mi servi, mi servi Corro da te Peace Morta, la tua Corro da te a prendere qualcosa, se ce l'hai Ho il kit da farci, eh Guarda, dietro, guarda, dietro Sei, crackati, crackato Era quella che avevo craccata, che era la mate 53 ai tipici Faccio la feri, faccio la feri, faccio la feri Qua è craccata qua in safe, dovrebbe morire A breve muore Vado avanti, vado avanti, vado avanti Morta Morta She was a feri Dimmi che sia ok 51 24, crack Sparano tutti, sparano tutti, sparano tutti Faccio il kit al volo 25, crackato, uno di vita Craccato Tutti i caccati, tutti i caccati, tutti i caccati Ok Morto Questi erano due Loro, loro devono morire Loro devono essere Vieni con l'occhio Vieni con me, tu spara, tu spara Io build, tu spari Loro sono con l'importante da uccidere 26 Uno di vita, uno di vita Knock, knock, knock Là c'è la duo 26 She was a feri, sto arrivando Vorrei capire come a volte si diventa Tranquilla, tranquilla, tranquilla Basta che non te li amo perché è un bellissimo game Va bene Craccato con la tua, craccato Bianca, 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 te lo giuro No, 84 white C'è il mate Ho 84 white, si devono curare, sono in due Bravissima, bravissima Godo Bravissima, let's go Clacciamela, clacciamela C'è uno più uno È ancora big, è tutto da fare, eh Lo so, lo so Almeno è nato più max questo Tu sei piena C'è uno più uno C'è uno più uno C'è uno più uno E anche hardwall E c'è il shiwuzo peri Madonna, 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 martina, attenzione Tattica scimmia Mamma mia Sempre big C'è uno, c'è C'è uno Sarà una 13 kill win, ragazzi Se la sta tryhardando, è più in animarsi, Martina Signori Let's go, skill, let's go La più forte, she was a feri della, 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 della zone Della zone Bel game, ragazzi Ok Stiamo al 94%, raga Se giochiamo bene lo facciamo sto game Ok Vici però sei morto Ah Te l'ho detto, io sei morto Tu non mi hai ascoltato Che ti devo dire, ozzi Se elucidiamo Se elucidiamo Grazie a tutti. No, bro, che fai? Poi tutto il fenomeno, vieni lì e mi attacchi e poi prendi il p***o, eh? No, bro, cioè, nel senso... Capisco tutto, però... Ok, G. È arrivato quello che vaga a busso con la tecnica, ragazzi, GG. Questo qua vaga a busso con la tecnica. La tecnica dello scudo di Capitano America, GG. Cioè, non... Questo è spesso a Mario, non è un bug. È una tecnica che utilizzano tutti i player, sia in build che in no build. Infatti è la tecnica migliore per... Per rancare alla perfezione. Mi sfo... Non so come counterarlo. Sincera, non so come counterarlo. È troppo forte quella stratta, ve lo giuro, è troppo forte. Ma non aveva colpi a R, questa? Non ci credo. Oh. Peccato. Era craccato, ma ha messo tutti gli hardball, quindi è impusciabile. Devo andare a loot, ragazzi. Devo andare a loot per i colpi a R, se no non posso fare... Sono inutile. 46 colpi a R, sono pochi. Buono, 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 buono. Sta cazzo di strategia di merda! Ok, so come... Che poi lui ha pure lo spotter, quindi è pure avvantaggiato. Devo fare molta attenzione, raga. Ecco, vedi, vuole genare. Cioè, non si può fightare, ragazzi. È tipo Mushoman, ve lo giuro. Dovrei capire se quello... Ma qua sto giocando! Tutti li sta killando, raga, ve lo giuro, tutti. Ma come lo contesto? Come lo contesti? È impossibile! È impossibile, ve lo giuro, è impossibile. Non puoi, non puoi, non puoi. È incontestabile, frate. È incontestabile. È incontestabile, ragazzi, ve lo giuro. È tipo... Allora, è immortale. È immortale. Join a box? Non lo puoi ittare? Se mi arriva per forza. Signori, io c'ero! Signori, io c'ero! Spamme di oceano. Sì, però, comunque, questo game... Vi giuro, ragazzi, che se non c'era questo... Se non c'era questo... Io ve lo giuro che questo game lo vincevamo. 100%, sì. Ma proprio garantito. Se non c'era questo stronzo con questa strategia, il game era stravinto. Il game era super mega vinto. Vola! 60! 60! Morto! 60! Morto! È proprio... 14 kill, ragazzi. Guardate il suo inventario. Non ha nemmeno il pompa. C'ha scudini, scudone, capitano America, jetpack e arma di war machine in automatico. Non ha armi. Lui ha fatto 14 kill senza armi. Che top siamo? 645, quindi ci sono un po' di persone in più rispetto alla scorsa volta quando lo facevo. Perché le scorse volte quando i tavoli a real c'erano tipo 200, massimo 400 persone. Quindi adesso ci sono più o meno 300 persone in più in a real. Perché questa season era un pizzico più veloce da fare. O forse... Non è che era facile da fare, ma... Non c'erano le macchine, capito? Il fatto che non ci fossero le macchine era sicuramente una roba game changing al 100%. Cioè, proprio... Garantito, garantita come cosa. Garantita proprio. Bene ragazzi, è venuto al termine di questo fantastico video. Io spero che vi sia piaciuto. Come avete visto, ho fatto delle partite davvero interessanti. Anche se nell'ultima partita in solo ho trovato quel giocatore che ha utilizzato una tecnica veramente impossibile da sconfiggere. Ancora una volta, come avete visto, sono la prima ragazza in tutto il mondo a raggiungere la real. E sicuramente nella top 3 dei player italiani, quindi sono molto molto soddisfatta. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se dovesse essere così, un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto. E vi ricordo che mi trovate live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17. Quindi io vi aspetto. Ora però ragazzi, noi ci dobbiamo salutare. Ma non vi preoccupate perché ci becchiamo chiaramente in un prossimo video. Dalla vostra Crotomist è tutto. Bella a tutti ragazzi.